buona giornata amici di fano tv bentrovati alla rassegna stampa sono le sette in punto iniziamo oggi la lettura dei giornali iniziamo anche la settimana con la lettura dei giornali insomma una incombenza che ogni mattina ci dà la possibilità di vedere quali sono le notizie del giorno ma come sempre passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia santa giacinta mar santa giacinta marta chi è giacinta marta ebbene la pastorella una delle pastorelle veggenti insieme al fratellino francisco e la cuginetta lucia delle apparizioni di fatima era il 13 maggio 1917 a fatima accade un evento straordinario come quello accaduto alcuni anni prima all'urde in francia l'apparizione di una signora detta più brillante del sole giacinta è stata proclamata santa da papa francesco il 13 maggio 2017 quindi è una santa posta sugli altari piuttosto di recente questa è santa giacinta marta vediamo le previsioni del tempo tempo ancora piuttosto buono ma comunque qualcosa comincia a cambiare rispetto alla settimana scorsa su tutta la regione vediamo una nuvolosità irregolare con una possibile riduzione delle foschie nel pomeriggio massime con punte fino a 16 e 17 gradi veramente una temperatura primaverile i venti spireranno con una tensione debole da ovest nord ovest sulle coste e da est nord est nell'interno le temperature si aggireranno tra i 4 e 13 gradi e il sole che stamattina sorge adesso in questo istante alle 7 tramonterà alle 17 e 44 e permettetemi di fare un saluto a una signora una signora di 99 anni che ci segue ogni mattina è una storica insegnante di matematica di fano la signora astolfi appunto che ci guarda e con la rassegna stampa di fano tv inizia la giornata buona giornata signora astolfi e con questo apriamo la le pagine dei giornali a partire dalla prima pagina del resto del carlino oggi il carlino come sempre il lunedì esce in una edizione ridotta quindi ci dà la possibilità di vedere il sunto delle notizie pubblicate sulla prima pagina e vediamo ovviamente il carnevale ieri si sono svolti le sfilate dei carnevaleschi un po su tutta la regione marche e il punto a e puntualmente i giornali oggi le recensiscono vediamo domenica di sfilate pazzi per il carnevale festa in tutta la regione fano chiude col botto chiude con il tutto esaurito sold out 15.000 biglietti venduti per sa poco 14.425 era il limite della capienza imposta dalla commissione della sicurezza carri anche a pesaro ancona è in provincia di macerata e qui vediamo delle fotografie che il giornale pubblica per quanto riguarda la suggestiva sfilata di mascherate che si è svolta a pesaro è uno dei gruppi che ha partecipato al carnevale di ascoli vediamo le altre notizie sempre per quanto riguarda pesaro il bambino coraggio è un bambino che grazie alla sua intraprendenza ha salvato una signora che era caduta per le scale si era procurata una grave ferita e il ragazzino ha chiamato il 118 e ha permesso che i soccorsi giungessero in tempo a salvare appunto la signora e poi altre notizie si schianta contro un albero purtroppo vicino a casa vivo per l'airbag che l'ha salvato è un incidente che si è verificato nei pressi di gallo e poi la politica il dopo ricci ne parla lui vimini biancani niente scontri niente scontri su ancona notizie di cronaca botte da orbi allo stadio tra i tifosi volano schiaffoni e cinghiate e poi un eblizze da parte delle forze dell'ordine movida controlli della polizia in tutta la provincia la droga nascosta in un trofeo sportivo va in carcere un ragazzo di 21 anni a macerata macerata si raccolgono aiuti per il sisma in turchia in siria ma il materiale purtroppo rimane bloccato e poi una notte di fuoco in campagna una tax force per i pompieri che hanno avuto molto da fare per spegnere incendi che sono divampati a ripetizione e a civita nova fai jogging e muore addio a ballatori imprenditore calzaturiero un infortunio proprio nel momento in cui si allenava faceva attività fisica purtroppo sono episodi rari per fortuna ma che accadono apriamo dunque il giornale sulla pagina che riguarda pesaro e vediamo l'episodio di questo ragazzo vediamo qui la fotografia si chiama giammaria pazzaglia e ha 12 anni ha salvato un'anziana che era caduta dalle scale è accaduto a macerata feltria la donna vive sola non c'era nessuno che potesse aiutarla si lamentava era dolorante il ragazzo che stava per penetrare nel palazzo perché andava a trovare un suo conoscente ha sentito le grida e sceso nel semi interrato dove la donna era caduta ha visto le gravi condizioni si era procurata una ferita alla testa la signora e quindi ha chiamato il 118 dando ai soccorritori le giuste indicazioni necessarie per fare arrivare i medici nel punto dove occorreva il loro intervento ed è rimasto accanto alla signora fino al loro arrivo tenendole la mano e cercando di parlarle per rasserenarla per rassicurarla che tutto si sarebbe risolto per il meglio e così è stato ebbene grazie al suo aiuto la donna si è salvata invece c'è stato veramente un delle gravi conseguenze per un ragazzo per un ragazzo di 25 anni che stava tornando a casa all'alba intorno alle 5 20 una un incidente stradale veramente grave con la sua auto è andata a sbattere contro un platano probabilmente un colpo di sonno ma per fortuna l'airbag che è esploso ha protetto anche ovviamente le cinture di sicurezza hanno protetto il giovane che si è procurato soltanto una frattura qualcuno dice al bacino qualcuno dice alla spalla comunque sono cose che per fortuna si possono guarire il tutto è accaduto pensate a 150 metri dalla sua abitazione bastava che trascorresse un minuto o due per pochissimo tempo per arrivare a destinazione e si sarebbe salvato e poi vediamo l'articolo di politica che è stato richiamato alla prima pagina si tratta del sindaco Ricci che chiarisce le precedenze tra i due dem vimini e biancani niente scontri corre per sindaco chi ha più benzina Ricci non potrà essere rieletto nel prossima tornata amministrativa e vediamo che in previsione delle prossime elezioni si scalda la querelle la campagna politica l'altro si scalda per le regionali tra un anno si decide al consigliere serve la deroga del partito il sindaco Matteo Ricci scopre che il futuro politico attuale è più complesso di quello che si potesse pensare lo schema per le elezioni per il sindaco tra un anno non è quello che spera qualcuno insomma ci sono delle turbative che potrebbero inquinare l'esito ma molto più solido come ha scritto e tirando in ballo i due candidati vimini e biancani sono tutti e due insomma in pole position vediamo ora il carnevale Carlino dedica molte pagine al carnevale e vediamo soprattutto le fotografie che rendono magari più dei testi in queste situazioni il messaggio che vogliono esprimere mille nelle strade a ridere con il Rabachen pesarese e San Martino vince col carro San Carlo a piedi splendida cornice tantissime le persone che hanno partecipato a questo evento dopo due anni di stop c'era tanta tanta voglia di divertirsi l'elenco di tutte le allegorie il 6 marzo il sorteggio della lotteria dunque si è svolta Pesaro la 66esima è un'edizione storica quella del Rabachen un carnevale dei ragazzi promosso dall'arcidiocesi di Pesaro con la collaborazione del comune e di Pesaro parcheggi oltre mille figuranti hanno portato splendide pennellate di colore in tutte le vie vivacità e bellezza per quanto riguarda i carri la giuria ha dato la vittoria al carro di San Martino dal titolo il mare di San Martino vediamo anche il premio per le sfilate a piedi il successo è andato alla parrocchia di San Carlo Borromeo con l'allegoria c'era una volta nel bosco e questo ha dato la possibilità di così riportare all'attenzione diverse fiabe, diverse fiabe amate dai bambini ovviamente non poteva mancare Biancaneve, eccola qui nella fotografia ma si è parlato anche di Cappuccetto Rosso, di Assele Gretel, insomma tutti i personaggi amati dai bambini e vediamo anche il carnevale di Fano che è il carnevale più frequentato di tutta la regione Marchi ieri ha fatto il sold out, si è raggiunto il limite imposto dalla commissione della sicurezza di 14.425 persone, ma probabilmente le persone erano anche di più considerando i residenti che si trovano dentro il percorso e il via vai tra uscite e entrate che potevano rimpinguare appunto i biglietti venduti terza ed ultima sfilata sold out, 60 quintali di dolci sugli spettatori il sindaco ha premiato la centenaria Musica Arabita con una pergamena che sancisce la partecipazione pensate per cento anni al carnevale di Fano di questo storico gruppo che fa veramente allegria, confusione, bellezza, insomma Musica Arabita è veramente un gruppo amato dai fanesi e vediamo che il carnevale continua, continua oggi e domani domani terminerà con il rogo del pupo in piazza 20 settembre ma oggi sono due appuntamenti importanti alle ore 18 c'è il consiglio comunale del carnevale che si riunirà nella sala consigliare della residenza municipale presieduta dal sindaco del carnevale che è Daniele Gaudenzi il direttore della Musica Arabita e sarà una giunta un po' sui generi, sarà un consiglio comunale divertente dobbiamo dirlo, siamo al carnevale e possiamo ridere è un po' in ridere il potere costituito perché questa giunta ne combinerà immagino di tutti i colori e poi invece questa sera un appuntamento culturale importante infatti alle 21, dunque io credo che sia al gonfalone non vorrei sbagliarmi, ma alle 21 ci sarà il coro polifonico malatestiano che canterà un brano di musica della Venezia del 1700-1600 non so bene, si tratta del festino per il giovedì grasso è una delle iniziative che è stata posta in occasione di un anniversario significativo il cinquentesimo anniversario dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano ed è un brano che è stato rievocato dal coro proprio in occasione del carnevale ed ora vediamo un attimo gli altri carnevali ad Ascoli si fa il pieno di maschere, ci voglia di tornare a scherzare il centro è stato preso d'assalto, code nei parcheggi come un po' in tutte le città il sindaco ha una edizione record, ha detto domani poi si replica domani è l'ultimo giorno di carnevale, poi comincia la quaresima però insomma qualche sforamento ci sarà senz'altro vi ricordo che per esempio il carnevale di Cartoceto e di Lucrezia si svolge a metà Lucrezia solitamente quindi un appuntamento da non perdere vediamo ancora Macerata come ai bei tempi Civitanova rivive la tradizione migliaia di persone ai giardini dopo lo stop per il covid vince il carro di Corridonia sulla costa sfilata ispirata alla Petena personaggio della civiltà marinara e tante le fotografie che evidenziano la bellezza di questi carnevali ma questo non è sufficiente perché qua vediamo il carnevale in maschera di Ancona è un carnevale pieno di vita, un pienone mai visto aria di notte bianca per la tradizionale sfilata dei gruppi mascherati e l'assessore pulisce il palco come Morandi a Sanremo quindi anche questo uno scherzo per quanto riguarda una satira di Sanremo quindi un carnevale che ha permeato di sé un po' l'atmosfera di tutta la regione facendo dimenticare un po' i problemi purtroppo ci sono state, poi abbiamo visto anche delle disgrazie comunque il carnevale di solito vince la tristezza vince le cose più brutte che ci sono perché sopravvive nonostante tutto sempre e voglio a questo punto farvi vedere qualche notizia di sport cominciamo a vederla sul resto del Carlino e vediamo come per la Vis non è andata molto bene infatti vediamo qui il titolo la Vis regge un tempo e l'attacco non c'è Biancorossi a galla nel primo tempo pericolosi sono una volta confedato poi il crollo nella ripresa e con la partita con la Lucchese insomma c'è stato il cappotto 3 a 0 contro la squadra pesarese preoccupa la sterilità offensiva dice il giornale un brutto risultato dunque per i pesaresi vediamo le altre notizie che Vigor doppio pesaresi tra Stevere e K.O. la Vigor Senigallia si impone per 2 a 0 contro il Trastevere grande successo d'alta quota e secondo posto in solitaria il bomber segna in apertura su errore dei semprini e chiude i giochi nella ripresa quindi due gol fatti proprio a tutto tutto tondo vediamo anche a Gabice per quanto riguarda il campionato di promozione e la Gabice Gradara ferma la K.Sport Montecchio nell'altra partita blizze e salvezza della Biagio Nazaro sul campo della Cagliese gruppo B scatto playoff per Potenza Picena Futura 96 K.O. qui vediamo tre partite che vengono riassunte in questo fondopangina K.Sport Montecchio 1 Gabice Gradara 1 Cagliese 0 Biagio Nazaro 1 Potenza Picena 2 Futura 96 K.O. quindi la vittoria al Potenza Picena e vediamo anche dunque a questo punto possiamo passare invece al Sport per quanto riguarda il Corriere Adriatico per quanto riguarda il Corriere Adriatico vediamo il titolo sulla Vis vediamo di trovarlo eccolo qua la Vis scioglie nel finale ai pesaresi negato un gol sullo 0-0 era un po' il momento in cui poi la Vis ha ceduto ma in quel momento se riusciva ad avere questo gol che gli è stato negato il risultato poteva essere diverso era un fuorigioco dubbio sull'azione precedente di Bakoyoko l'è sfedato subito a mille ma nella ripresa la lucchese Caleltris che la rilancia in ottica playoff quindi 3-0 spenti nella ripresa è il titolo che appare sui commenti della partita Brevi dice avendo indisponibili così tanti giocatori abbiamo fatto fatica purtroppo soprattutto nel ritmo e da quando sono qui la prima volta che la squadra non ha una reazione dopo lo svantaggio insomma non c'è stata quella carica dei giocatori che di solito riesce a superare lo svantaggio subito l'Ancona salva la faccia altra partita opaca dei Doreci che non si riscattano dopo il K.O. di fermo solo pari con l'Olbia infatti il risultato è 1-1 lo vediamo qui nella tabella il Fano ha dimostrato che c'è il Fano ha giocato sabato scorso perché ieri c'era il Carnevale un'importante vittoria ottenuta contro la Vastese nell'anticipo che ha riportato serenità in casa Granata Schiaroli a segno prova che ti riprova in allenamento finalmente sono riuscito a buttarla dentro ha detto il giocatore e quando uno riesce appunto a fare il gol si sente molto molto caricato e quindi prossimo per i prossimi impegni per i futuri impegni la Vigor a Senigallia non molla mai decide il match col Trastevere una doppietta di Pesaresi il risultato abbiamo visto è 2-0 a quota 96 con il rosso-blu il Pineto capolista vince ancora e resta più 6 ma la squadra di Clementi è veramente da applausi così intitola il Corriere Adriatico c'è anche un titolo sull'Osimana ha sfiorato il colpo l'Atletico Ascoli salvo al 95esimo il risultato è 1-1 Atletico Ascoli 1 Osimana 1 il Fossombrone invece finisce sotto poi riprende il Chiesa Nuova Canavassio lancia i padroni di casa ma nella ripresa Bucchi firma il pareggio anche qui abbiamo un 1-1 ciò detto vediamo le altre notizie vediamo le altre notizie a partire sempre dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano la pagina dedicata al Carnevale tutto esaurito per l'ultima sfilata i turisti arrivano da ogni regione sono veramente arrivati da tutte le regioni d'Italia anche dalle più lontane dalla Puglia per esempio e anche dal Piemonte dalla Lombardia Puglia Abruzzo Umbria Toscana Emilia Romagna e tutto il nord della penisola sono queste le località da cui sono venuti i turisti per partecipare al Carnevale di Fano attratti soprattutto da quella da quell'evento che a Fano è inimitabile anche se altri Carnevali hanno cercato insomma di fare la stessa cosa ed è il getto il getto 60 quintali di dolciumi ieri sono stati gettati di nuovo sulla folla e c'è qualcuno che è tornato a casa con qualche chilo di cioccolatini insomma la cosa non è andata affatto male soprattutto anche nelle dichiarazioni che fanno TV a tratto così intervistando il pubblico a caso ci sono stati dei giudizi molto molto positivi su questa festa e quindi tutto è andato bene dicevo che il Carnevale continua oggi e poi domani domani quando tutto terminerà nella suggestiva cerimonia del rogo del pupo quando si brucerà il pupo simbolo del Carnevale di Fano per poi così risorgere l'anno dopo sempre con lo stesso ritmo la stessa vivacità la stessa cultura ed è una prerogativa quella di quest'anno la ripresa delle mascherate dopo tanti giorni di tristezza per quanto riguarda il covid abbiamo avuto la fortuna di gettare via la maschera che ci proteggeva dal virus e di indossare quella del Carnevale vincono la mascherata del cavolo e le sister art per quanto riguarda i due veglioni che si sono svolti sabato scorso in città soprattutto il veglione della gluppa che si è svolta nella sede della combattente con tantissime persone ha ottenuto un grande successo 20 gruppi mascherati che si sono presentati molto molto numerosi con tanta fantasia tanta creatività e ha vinto proprio una mascherata realizzata su un tema originale oserei dire perché era un tema che riguarda proprio le radici fanesi la cultura del cavolo a metà origlia quale tema più così più estroverso più 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 particolare che non si poteva scegliere per fare un bellissimo gruppo mascherato e invece la sister art sarebbero un gruppo di suore così scherzose ironiche che hanno partecipato al veglione della carnevalesca giriamo la pagina e troviamo un'iniziativa invece della memoteca montanari la memo itinerante nelle scuole per andare a caccia di fake news riparte per un nuovo triennio la memobile la palestra digitale per la scuola si tratta di uno dei progetti attuati con la collaborazione tra il pubblico e privato che ha riscosso i migliori apprezzamenti inducendo gli studenti all'uso migliore sia dal punto di vista tecnico del computer che da quello etico appunto per quanto riguarda le nuove tecnologie speriamo benissimo che nel web si nascondano certi problemi certi tranelli che è bene evitare ebbene con questa iniziativa si cerca di mettere in guardia i ragazzi di sviluppare in loro una capacità critica in modo che riescano a capire quali sono le notizie vere e quali sono invece le notizie false le cosiddette fake news e ci sono dei meccanismi attraverso delle parole chiave che possono indurre i ragazzi a sviluppare questa capacità critica a San Lorenzo in campo si svela il programma Ergeva coinvolte imprese e famiglie il sindaco invita al convegno sulle comunità energetiche l'amministrazione comunale organizza questo convegno alle ore 21 nella sala consigliare il titolo è le comunità energetiche opportunità e scenari per i nostri cittadini e imprese grazie al progetto Ergeva polo scientifico agro tecnologico e questa è un'occasione preziosa per illustrare le modalità di funzionamento delle comunità energetiche e come Ergeva nell'area dell'ex aquater potrà dare il suo contributo nel contrastare soprattutto il caro bollette a famiglie ed imprese pensate quanto c'è bisogno di un aiuto in questo settore quindi è un convegno questo molto interessante per quanto riguarda invece l'itinerario della bellezza che ha coinvolto tantissimi comuni della nostra provincia Cantiano vediamo che rinnova l'adesione un sostegno economico al comune degli associati di cofcommercio a Senigallia guidavano ubriachi due giovani e sono stati sorpresi dalla polizia guidavano ubriachi si tratta di un ragazzo e di una ragazza sono scattate nei loro confronti le denunce e il ritiro della patente lui è un 26enne di Tre Castelli lei ha 25 anni ed è di Corinaldo sono stati fermati dai carabinieri che hanno riscontrato che il tasso alcolico era superiore al consentito lui aveva 1,39 grammi per litro la ragazza 1 grammo per litro però entrambi avevano superato il limite appunto consentito per quanto riguarda la guida in stato di ebrezza e poi a Pesaro si tratta del problema delle auto elettriche un problema che deve essere risolto incrementando i punti di rifornimento auto elettriche 40 colonnine non bastano e sono lente il comune poi possiede solo 5 veicoli a batteria il consigliere Gambini in dotazione mezzi immatricolati nel 1990 sono appena una quarantina le colonnine di ricarica elettriche installate nei vari punti della città e non bastano questo un po' in tutte le località della nostra provincia occorre fare di più ed era l'ultima notizia abbiamo chiuso i giornali anzi li chiudiamo adesso Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 intanto vi auguro una buona giornata e vi dà appuntamento